Dopo esserci rifocillati andiamo a fare un paio di cose tranquille ovviamente siamo nei Disney Studios, quindi nel mondo del cinema andiamo a fare Studio Tram Tour che è purtroppo l'ultimo tipologia di queste attrazioni che ci sono in giro per i parchi Disney soprattutto c'era qualcosa di forse un pochino più bello, un pochino più lungo agli studios della Disney a Orlando ma l'hanno eliminata per far posto quello che aprirà a giorni che è tutta la zona Pixar Siamo finalmente riusciti a fare cash coaster e merita sempre un botto adesso stiamo un attimo temporeggiando per andare a vedere lo spettacolo dopo di Avengers intanto ci facciamo due foto qua dalla zona Monsters e Co interrompo un attimo questa linea temporale perché eravamo comodamente sul divano io e Federico e abbiamo visto che finalmente hanno aperto un rock'n'roll coaster e quindi ci siamo catapultati, tanto da solo una fermata di metro da casa nostra agli studios prima che chiudessero per farla quindi vado allora com'è stata rock'n'roll coaster? bello ma non così corto come mi aspettavo però bello sì bella bella la partenza iniziale a razza vero? e io poi in un momento non capivo se eravamo sui giù meglio questa o Hyperspace Mountain? non lo so, sinceramente non lo so vabbè sono belle tutte e due sì ok una piccola info su rock'n'roll coaster è che quando parti in 3 secondi ti spara da 0 a 100 quindi una bellissima accelerazione è una cosa che ho letto in giro un po' nei vlog cose un po' così che molto probabilmente cambierà tema non solo qua ma anche a Orlando molto probabilmente diventerà Marvel o qualcosa di simile ormai la Marvel, almeno qua a Parigi, sta prendendo il sopravvento sperando quello che mi lascia sempre basito è che riescono a mettere marchi su qualsiasi cosa cioè forse io non ho ancora visto la cartigenica di un brand di proprietà della Disney ma di Star Wars ormai ce n'è di ogni intanto che stiamo entrando per lo spettacolo appunto Marvel vi spiego perché qua stanno puntando moltissimo sulla Marvel e tutto vabbè perché Disney con Marvel qualche anno fa i film stanno andando alla grande ma poi perché hanno annunciato che hanno un investimento di 2 miliardi di euro allargare questo parco e fare tre aree una dedicata ovviamente alla Marvel una a Star Wars e una a Arendelle che ovviamente farà felici molte ragazzine se solo il territorio è così figuriamoci lo spettacolo siamo usciti dal parco che tanto ormai 10 minuti chiude siamo usciti dal villaggio dove c'è World of Disney l'hanno fatto qualche anno fa e è sempre molto 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 bene mettiamo al collo Chico ma un gatto noi a casa ce l'abbiamo già ed eccoci finalmente a casa Federico questa serie dei video di Disney a Paris è finita ti è piaciuto? sì è la prima volta che venivi? sì non sarà come Orlando però a proposito di Orlando ci sono ancora tre posti per il nostro viaggio a Orlando in camper più che Orlando è in Florida su e giù per la Florida in camper io sono molto felice quello che ci avete scritto sotto i commenti di questi video di Disney a Paris torneremo perché ormai abbiamo l'abbonamento quindi ci tocca tornare stiamo già programmando qualcosa per aprile marzo dell'anno prossimo comunque quando saprò vi dirò e niente ci salutiamo qua vi ricordiamo sempre i nostri canali social Facebook, Youtube e Instagram perché se ci seguite su Instagram è come essere con noi quando andiamo nei parchi Twitter no Twitter no ce l'abbiamo mi dispiace Twitter no e l'uccellino non ci piace e quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti